Origano, la pianta aromatica dà i potenti benefici terapeutici Origano Origano è una delle spezie più usate per aromatizzare e condire i nostri piatti.Tuttavia bisogna pensare che questultima non è soltanto una pianta aromatica, ma anche una potente erba medicinale Origano Essa, infatti, contiene i fenoli noti per le loro proprietà antispasmodiche, antisettiche, antiossidanti e vermifughe. Lorigano è, inoltre, ricco di vitamine e minerali, in particolare, vitamina A, vitamina C, ferro, potassio e manganese. Origano In ragione delle sue proprietà, questa pianta viene utilizzata come antibiotico naturale sotto forma di . Olio essenziale dorigano. Quest'olio essenziale è molto famoso in quanto è uno dei più potenti antisettici contro mal di denti, reumatismi, psoriasi e infezioni alle vie respiratorie. . Esso può essere applicato sulla pelle oppure ispirato attraverso su fumigi, diluito con acqua bollente e bicarbonato. Tisana. La tisana allorigano è molto utile come analgesico. Leggera e profumata è lideale per attenuare dolori mestruali e demecranie di media entità. Filtrarla è semplice, basta aggiungere 15 gr di origano a mezzo litro di acqua. Una volta filtrata, aggiungete un dolcificante naturale, lideale sarebbe un cucchiaino di miele. . Infuso. Linfuso, a differenza dell'olio essenziale e della tisana, svolge una forte azione drenante. . Quest'ultima unità al miglioramento della circolazione sanguigna, contribuisce a combattere gli inestetismi della cellulite. . Provate questo infuso anche per combattere i problemi digestivi oppure per combattere le eruzioni cutanee causate da allergie, sotto forma di pediluvio. . Spezia. Utilizzate l'origano per arricchire i vostri piatti, così aggiungerete gusto e proprietà benefiche a quest'ultimi. . I piatti conditi con questa spezia, combattono con successo il meteorismo. . Controindicazioni. . Il consumo frequente di origano è sconsigliato a chi soffre di ulcere e gastriti di varia natura. . 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 Grazie a tutti.